Re Giorgio fa volare il Messina. Corona entra, segna, risolve la partita e regala ai giallorossi tre punti fondamentali per la corsa alla seconda divisione. E pensare che la gara vinta 2-1 con il Savoglia, Corona l'aveva cominciata dalla panchina, per un problema muscolare avvertito nel riscaldamento. La partita del cuore, almeno per il padron giallorosso Pietro Lomonaco, di torre annunziata di nascita, messinese da adozione. L'assenza di Corona, insieme a quella di Parachis, qualificato, si fa sentire con il Messina contratto, almeno in avvio. Ci vogliono infatti sei minuti per vedere un'azione degna di nota, ma solo perché i giallorossi reclamano un rigore non concesso per un presunto fallo su Croce. Qualcosa però comincia a muoversi, Cocuzza si invola sulla fascia e crossa per Croce. Il colpo di testa del numero 9 giallorosso è controllato dal portiere Campania. Premesse di spettacolo che non trovano conferma perché il Messina non riesce a superare le barricate del Savoglia di Sasamura. La partita si accende a tratti. Giallorossi pericolosi a metà tempo con Ferrera, servito da Cocuzza. Il portiere ospite non si fa sorprendere. Un'azione che sveglia il San Filippo e il Messina che dopo qualche minuto passa con una prodezza di Croce. Cross di Bucolo e conclusione vincente nel numero 9. In avvio di ripresa Messina vicino al raddoppio. Cocuzza si invola solitario verso la porta del Savoglia. Il suo tiro però non impensierisce l'Occisano. Al San Filippo si accendono i riflettori ma non la partita. Il Savoglia attacca senza troppa convinzione. Il Messina controlla provando a colpire in contropiede. Dopo il buio sul San Filippo si abbatte un acquazzone. Insieme alla pioggia arrivano anche le prime vere occasioni del Savoglia. Prima un colpo di testa di incoronato finisce alto. Poi da un'azione personale di Savarese scaturisce il gol del pareggio. Il giocatore Campano fa tutto da solo. Entra in area, tira e realizza la lette dell'1-1. Il Messina riordina le idee e si getta in avanti. Ci provano cucuzza di testa e Quintoni con un calcio di punizione. Catalano quindi non può che tentare la carta Corona. Regiorgio risponde subito. Servizio di Croce e tira il volo dell'attaccante. Parata di L'Occisano e palla sul palo. Corona ritrova il pallone e con freddezza mette in rete. Un gol che fa esplodere il San Filippo. 2-1 il risultato che avrebbe potuto essere più ampio se Ferreira servito da Corona non avesse divorato il pallone del 3-1. Poco male. Il Messina vince ancora e si prepara al big match di domenica prossima a Cosenza con tre punti di vantaggio sui calabresi. Grazie. 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 Grazie.